Regina Schrecker, Jasminder Zanghera, Lisbjorn Lirnert, Emanuela Zuccalà, Mirta Merlino, Vittoria Doretti e poi Dacia Maraini. Ecco le premiate della quarta edizione del premio Semplicemente Donna che si è tenuta a Cortona nella cornice di un teatro Signorelli gremito in ogni ordine di posto. Ad aprire la quarta edizione del premio internazionale Semplicemente Donna la testimonianza di Maria, una giovane madre di Arezzo, maltrattata, picchiata, aggredita, umiliata anche davanti ai propri figli. Maria che ha deciso di raccontare il suo vissuto affinché chi di dovere possa intervenire e completare una legge, si è affidata ed ha ricevuto pieno sostegno anche dalla presidente della giuria del premio internazionale Semplicemente Donna, Ivana Ciabatti. Devo dire che è una storia veramente molto emozionante, molto toccante e vorrei anche ricordare che in Italia ogni due giorni e mezzo viene uccisa una donna e solo il 7% delle donne denunciano violenza. Questa storia però mette in luce un problema grave, la non certezza del diritto perché queste donne che poi denunciano spesso non sono tutelate. Bisogna fare un'azione preventiva perché poi emerge, si sente dire, quando una donna viene uccisa che aveva fatto diverse denunce. Ecco, allora qui come associazione abbiamo intenzione di proporre delle normative molto più incesive che tutelano queste persone che denunciano. Beh, resta molto, resta molto non solo per la serata ma anche per il giorno precedente, per le scuole, ma questa sera abbiamo visto e ascoltato delle storie straordinarie di donne completamente diverse e l'una dall'altra per mondi e professionalità diversa. È chiaramente quello che deve restare in noi per poter portare avanti ancora un messaggio ancora più forte e poter lavorare anzi grazie alla loro collaborazione anche in tempi dove non ci sono premiazioni ma in tempi dove c'è bisogno di fare cultura nel mondo dei giovani. Penso che bisogna parlare di questa violenza perché è un fatto culturale che riguarda proprio l'educazione, i primi rapporti con la scuola, con le tradizioni quindi parlarne occasioni come questa sono ottime e penso che ce ne vorrebbero di più.